Dove è andato? Dove è andato? Eccolo là! Allora guarda, te lo dedichiamo con tutto un cuore, a tutta la compagnia! Pronto Michael? Vai! Allora guarda! Allora guarda! Allora non so mai, qual ti vorrebbe in prima fila eh? Allora guarda! 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.